FIENZE SMART FIENZE IN PRUNETA E L'ALLACCIAMENTO CON LA UNDICI IN A12 PER LAVORI E CHIUSA L'ENTRATA DI ROSIGNANO MARITTIMO IN DIREZIONE GENOVA SULLA FIPILLI IN DIREZIONE FIENZE I CODIATTRATTI TRA GINESTRA FIORENTINA E FIENZE SCANDICCI IN DIREZIONE MARE E POSSIBILI DISACI PER UN INCIDENTE AVENUTO AL KILOMETRO 35-500 TRA SAN MINIATO E SANTA CROSCE SULLARNO Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!